Archie, Ascani, Palese. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'8.11 centemero. Chiede di intervenire onorevole centemero? No. Metto in votazione l'emendamento. 8.11. Parere contrario, Commissione e Governo, Relatori 5 Stelle. Sì. Favorevole Relatore Forza Italia. Aperta la votazione. Palese. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 8. È aperta la votazione. Scalfarotto. Malisani. Provi Malisani? Ok. Ci siamo? No. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'articolo 9 e relativi pareri. Onorevole Sanna. Allora, il 9.13 è ritirato. Partiamo dal 9.115 Tinagli. sul quale il parere è favorevole. Grazie. Onorevole. E così anche il 9.14. Favorevole. Favorevole. Mentre invece... No, mi scusi. Il 9.14 è contrario. Ho sbagliato. Brava. 9.14 è contrario. 9.105 è contrario. 903 è contrario. 902 è contrario. 906 è contrario. 9.400 della Commissione è ovviamente favorevole. 9.104 è contrario. 9.107 è contrario. 9.108 è contrario. 9.108 è contrario. 9.2 è parisi. Contrario. È favorevole sul 9.113 dell'Onorevole Libertà.